E' un punto di incontro per... Eh, perché gestivano pure questi, cioè, pur io, per il coro, però mica erano circoli. No, nel senso che era un punto d'incontro per... Era un punto d'incontro qua, in mezzo, e questo, le pare, le cedere, le parlavano da l'alto, ma qua, per farne stare all'interno. Ah, beh, un dettaglio. Non è che era un circolo, eh, lo scopo. Voi siete già avvisti? Eh, esprimete bene però, eh, non fate che ci vogliono rirovinare. C'è un po' di mani, ci mancano a primi anni. Proprio l'anno di casa l'è, poi l'anno di chissà, poi l'anno di casa 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 l'anno.